Tutta la sofferenza di un ragazzino siciliano che grazie all'amore e ai sacrifici dei suoi genitori è riuscito a realizzare il sogno di arrivare sul tetto del mondo. E' questo che mostra il docufilm sulla vita di Tony Cairoli proiettato in anteprima mondiale dal Cineteatro Comunale Beniamino Iopolo di Patti. L'evento è stato voluto dal campione mondiale originario proprio di Patti e reso possibile grazie alla caparbietà del titolare della struttura Franco Zanghi. La pellicola in quasi un'ora regala grandi emozioni, l'arrivo a Patti del campione che percorre le strade sterrate che portano alla sua casa dove da bambino viveva con i genitori e dove si era costruito la sua prima pista imparando ad andare in moto. Poi inizia il racconto attraverso le sue parole, le immagini dell'infanzia e la prima moto regalata da papà Benedetta all'età di tre anni. Un'avventura in cui i primi a crederci ancora più dello stesso Tony sono stati proprio i suoi genitori. Se il tuo sogno è correre, fallo e divertiti. Era questo che la madre Paola ripeteva sempre al piccolo Antonio nei momenti di sconforto. E così ha fatto, riuscendo a superare le difficoltà economiche di una famiglia povera che investito tutto su di lui. Le fatiche di spostarsi da così lontano per raggiungere i luoghi delle gare che si svolgerono quasi tutte al nord. Lo sconforto della solitudine e dei risultati che non arrivavano. Poi l'incontro nel 2003 con Claudio De Cardi, che è stato per il centauro pattese come un secondo padre. Lui ha creduto in quel ragazzino di 18 anni e su di lui è puntato tutto, così come aveva fatto il padre naturale 15 anni prima. E Tony non ha deluso le aspettative raggiungendo in breve tempo il tetto del mondo. E lì, dopo essere caduto, dopo aver superato un bruttissimo infortunio al ginocchio nel 2008, è risalito in moto e si è ripreso quello che gli toccava di diritto, il titolo di campione del mondo. E da allora non l'ha più lasciato. Accanto al campione sportivo c'è anche un grande uomo e Tony l'ha dimostrato in tante occasioni, come quando scaricato dalla Yamaha, dal campione del mondo, con mille difficoltà ha trovato una nuova moto, la KTM, e non ha voluto lasciare la sua famiglia sportiva imponendo il team De Cardi, con il quale ha voluto continuare l'esperienza già vissuta ed è sicuramente stata una scelta vincente. Il film entra dentro l'animo del campione e lo mette a nudo, racconta la velocità, il fango, la gloria di una persona incredibile che nonostante tutto è rimasto con i piedi per terra e che ha fatto tesoro degli insegnamenti dei suoi genitori e della povertà dell'infanzia. I miei, ha detto, mi hanno insegnato a non sprecare nulla perché non avevamo i soldi per comprare le cose. Ed io oggi, forte di quell'insegnamento, chiedo e cerco solo quello di cui ho realmente bisogno. Grazie a tutti.